Buongiorno a voi in questa domenica 28 maggio, solennità della Pentecoste. Spirito d'amore, di pace e di riconciliazione. Mi verrebbe da intitolare così il messaggio di questa domenica, visto che di Spirito Santo si parla come primo dono ai credenti, il primo dono del risorto, se consideriamo questa apparizione narrata nel Vangelo di Giovanni. Gesù si mette in mezzo a quegli apostoli chiusi nel Cenacolo, spaventati ancora per la sorte di Gesù, ancora increduli. Gesù li visita, attenzione, donando il suo Spirito, che è innanzitutto testimonianza di amore, tant'è che il saluto del risorto è proprio pace a voi. non li condanna per la loro fuga, per i loro tradimenti. Gesù testimonia un amore grande che è pace, è pace sovrabbondante, un amore che si fa vicino, che si mette in mezzo, un amore che incoraggia e augura la pace. D'altronde solo chi è in pace con se stesso, chi si sente amato può essere un uomo, una donna di riconciliazione. Quante volte abbiamo a che fare con persone attaccabrighe, sempre pronte a giudicare, sempre pronte a mettersi in mezzo, ma per distruggere anziché per edificare. Generalmente sono persone che non si sentono amate, non sanno stare in pace con se stesse. Ecco perché il Vangelo di Giovanni ci presenta il risorto come colui che riconsegna la pace, una pace diversa, la pace di chi sa di essere amato, punto e basta. E solo quando si accoglie, si riceve questo dono del risorto, si può essere uomini e donne di misericordia. Gesù consegna il suo Spirito. Ricevete lo Spirito Santo, andate, perdonate i peccati. La missione che viene affidata alla Chiesa è proprio quella di restituire questo amore più grande che si fa per dono. Un Dio che non ce l'ha con l'uomo, un Dio che guarisce le ferite con questa misericordia. E riconosciamo subito gli uomini, le donne credenti, dal fatto che sanno essere operatori di pace, che sanno restituire vita, che sanno prendersi cura delle ferite spirituali degli altri. Ed è possibile questa missione perché hanno fatto esperienza di Gesù risorto. E allora, coraggio, oggi accogliamo la bella notizia del Vangelo, del Dio che ci raggiunge, per donare non qualcosa, ma per donare se stesso, lo Spirito Santo, amore. E con l'immagine della Pentecoste, narrata dal Libro degli Apostoli, nella prima lettura di oggi, quelle fiammelle, quelle lingue di fuoco che scendono sulle teste degli Apostoli, su Maria, ci ricordano in fondo che l'uomo, la donna di Dio, hanno il cuore pieno di quel fuoco d'amore e riescono a farsi capire, riescono a parlare delle grandi opere di Dio. Buona Domenica a tutti!